Siracusa, archeoparco urbano di Tiche, 7 ettari di verde in centro città, appalto da 7.600.000 euro, lavori affidati entro luglio. E' stato pubblicato sul portale MEPA il bando di gare per la realizzazione dell'archeoparco urbano nel quartiere Tiche, finanziato per 7.600.000 euro con fondi del PNRR. Entro il 30 luglio saranno affidati lavori sulla base del progetto di fattibilità predisposto dal Comune. L'area interessata del progetto è interclusa tra quattro vie principali, Viale Scala Greca, Viale Augusta, Viale Santa Panagia e Viale Terraganti ed è attualmente occupata nella quasi totalità da spazi a verde, molti dei quali incolti a uso agricolo. L'edificato è composto maggiormente da edilizia residenziale privata ma all'interno insistono anche edifici ad uso pubblico tra i quali il Tribunale. Una parte rilevante dell'area inoltre è sottoposta a vincolo di interesse archeologico e una parte minore per estensione a vincolo archeologico. Nel progetto di rigenerazione urbana prefigurato dall'amministrazione il parco svolge una funzione di cerniera tra l'area posta a monte, quella di Via Italia, aree nella quale è prevista la riqualificazione di un altro grande parco pubblico, il parco vittime della mafia, e quella posta a valle dove è presente la grande area archeologica della Neapolis. L'insieme delle due aree diventeranno quindi i nodi di una rilevante infrastruttura verde che attraverserà la città dal nord a sud. L'archeoparco, oltre a dotare la città di un polmone di verde urbano in un'area con una elevata presenza di inquinamento da traffico veicolare, ha anche lo scopo di agevolare e incentivare la mobilità dolce, la presenza di percorsi ciclopedonali al suo interno servirà a generare nuove forme di collegamento e di mobilità green. Il parco ospiterà una vasta area destinata ad orti urbani, una piazza di comunità, aree destinate alla didattica, al fitness, allo sport, alle attività culturali, per lo sgambettamento di animali domestici, lungo i viali, infine saranno dislocate 30 panchine per la sosta, chioschi, bar e servizi igienici.